il ferito, ma vi prometto che ovunque sia andato, noi lo ritroveremo. Tranquilli, ma quale missione? Mascot si è spostato solo di venti metri. Mascot, solo prodotti di qualità per la cura, la nutrizione e l'igiene dei tuoi amici animali. Il nuovo negozio è a Piazzano di Atessa in via Piana Lafara 6. Sabato quindici giugno, Mascot ti invita alla giornata.